Quali sono le competenze dell'Avvocato del futuro? Neanche una sfida, perché poi abbiamo visto che nella cassetta degli attrezzi dell'Avvocato del futuro ci sono già tutti gli strumenti possibili per poter affrontare le tematiche che l'intelligenza artificiale ci richiede. Abbiamo sentito parlare di impresa, di concorrenza, di organizzazione in temi ai quali noi semplicemente siamo abituati, magari parlando di semplice predittività. Quella è una delle questioni poste dall'intelligenza artificiale, in realtà dietro c'è tutto quel mondo dell'alternativa o dell'alternanza fra l'Avvocato della giurisdizione e l'Avvocato della prevenzione e dell'assistenza. E quindi oggi non abbiamo voluto proiettare un ritorno al futuro nella versione giuridica, abbiamo semplicemente voluto raccontare il presente per tutti insieme andare avanti verso il futuro ed esserne parte consapevole e integrante. Grandi passi ne stiamo facendo, abbiamo iniziato già con la semplice digitalizzazione del processo civile, basta pensare a quanta utilità abbiamo tratto noi avvocati nello svolgimento della nostra professione, perché abbiamo velocizzato sia le notifiche sia il deposito materiale degli atti, quindi abbiamo eliminato quelle lunghe attese in cancelleria, quindi abbiamo sicuramente ottimizzato i tempi ma anche ottimizzato il lavoro. Dobbiamo ben guardare all'intelligenza artificiale con un atteggiamento sicuramente di benevolenza, non invece di ostruzionismo, lo sappiamo l'evoluzione tecnologica non si può fermare, quindi dobbiamo semplicemente intervenire attraverso la regolamentazione sicuramente e soprattutto cercando di utilizzarla per svolgere al meglio la nostra professione, quindi nuovi orizzonti dal punto di vista dell'evoluzione nell'esercizio professionale ci affacciamo, quindi benvenga all'intelligenza artificiale. Senza paura e valorizzando secondo me gli istituti civilistici che sono contenuti nel nostro codice, non sono vecchi, possono essere adeguati, possono essere adattati, nella consapevolezza però che non possono essere valorizzati con un approccio che deve necessariamente essere innovativo, cioè la pigrizia dell'avvocato deve essere superata dall'interesse e dallo studio e dall'approfondimento di questi nuovi temi ai quali adattare gli istituti. Sono gli istituti che si adattano, che si devono adattare ai nuovi temi, non il contrario e il rischio spesso invece è il rischio inverso, cioè il rischio di voler adattare le novità ai vecchi istituti, alle vecchie regole. Le regole ci sono, le regole possono essere applicate, le regole sono affidabili, le regole sono rassicuranti, ma si devono adattare. Per forza di cose lo scopo e il compito del giurista è quello di adattare le regole alle fattispecie, non il contrario. Sicuramente nuove opportunità, nuove possibilità, tenendo anche conto che l'uomo è comunque il soggetto, la persona è comunque colui che è tenuto comunque a esercitare un controllo, non manca il controllo, c'è il controllo, il controllo deve essere esercitato, l'elemento umano secondo me viene valorizzato e non deprezzato da queste nuove realtà, da queste nuove fattispecie.